Angelo Larosa, voi come Comitato dei Cittadini a seguito di quanto accaduto recentemente nel pronto soccorso di Acireale, abbiamo visto un video che è stato girato da un utente nel corridoio del pronto soccorso con un uomo sdraiato a terra delle immagini che hanno fatto indignare. Voi avete scritto una lettera aperta indirizzata al Presidente della Regione Musumeci, all'Assessore Razza ma anche al Neoministro Grillo. Cosa c'è scritto in questa lettera? Tutti e tre conoscono perfettamente la situazione di quello che abbiamo esposto in questa lettera aperta, fatta così appunto per ricevere una adeguata e speriamo soddisfacente risposta pubblica di quello che hanno intenzione di fare. Di fatto ciò che andiamo a sottolineare è quello che il progetto degli ospedali riuniti, così come è stato concepito probabilmente da lontano nel 2009 e poi realizzato nel 2015, è miseramente fallito. Per tutto ciò che si assiste in quello che è il pronto soccorso di riferimento per entrambi i territori. Quindi non rimane altro che, come abbiamo più volte sollecitato, rivedere immediatamente questa rimodulazione ospedaliera e ripristinare i due ospedali di base con entrambi pronto soccorso a Cireale e Giare, affinché i due territori possano avere le adeguate risposte nei termini di legge, così come previsto dal decreto Balduzzi. E' inconcepibile continuare ad assistere quotidianamente a quello che abbiamo visto, come hai fatto riferimento l'altro giorno e quindi non regge più tutto il sistema così come è stato concepito. Auspichiamoci immediate risposte per tutti i cittadini. Voi siete fiduciosi perché c'è stato un cambio, diciamo, recentemente alla Regione, un cambio importante anche a Roma, al Governo. Quindi siete fiduciosi, insomma, rispetto a queste nuove figure che adesso sono a capo della sanità? Sicuramente, anche perché tendiamo a sottolineare un aspetto molto importante, così come è rimarcato nella nostra lettera aperta, che i tagli alla sanità si fanno riducendo gli sprechi e gli sprechi nella sanità sono tantissimi e non chiudendo gli ospedali e creando disservizi che sappiamo bene hanno riguardato i nostri concittadini, di cui ricordiamo le 14 vittime, ma anche tante e tantissime altre numerose disservizi e probabilmente anche morti per il territorio acese.